L'autorizzazione c'è da parte di tutti, quindi da questo momento siamo online. Prego i nostri ospiti di contenere l'intervento intorno a dieci minuti ciascuno. Sì, facciamo entrare la troupe televisiva che vuole svolgere alcune riprese, subito, prima che inizi l'audizione. Quindi dieci minuti ciascuno per dare modo ai deputati di porre delle domande. Questo ovviamente mi rivolgo sia a lei, Vice Presidente Angelilli, che ai presidenti che sono collegati da remoto. Quindi dieci minuti ciascuno per cui seguire la replica degli auditi che potranno inviare comunque alla Secretaria della Commissione, qualora non l'aveste già fatto, un documento scritto. La documentazione, una volta inviata, sarà pubblicata sul sito web della Camera dei Deputati e sull'applicazione Geocom in modo tale che... Ecco, si prego, per le riprese iniziamo subito, così svolgiamo prima un giro di riprese e poi iniziamo con l'audizione del Vice Presidente Angelilli. Grazie. Grazie. Saluto ai presidenti che sono collegati da remoto. Consentitemi di fare un saluto particolare al Presidente della mia regione, Marco Marsilio, visto che... Non so se mi ascolta. Mi ascolti Marco, sì? Sì, sì, fare di sì. Sì, sì, la sento, la sento. Ah, perfetto. Un saluto cordiale a lei, Presidente. E all'Aquila, sì? No, sono a Pescara, sono nella sede di Pescara. Perfetto, perfetto. Allora, solo un saluto. Abbiamo concluso con il cameraman, grazie. Grazie mille. Benissimo, allora passiamo, allora iniziamo con l'audizione. Do quindi la parola alla Vice Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Vice Presidente, a sua disposizione dieci minuti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Un buongiorno a tutti. Grazie, Presidente. Intervengo ovviamente in qualità di Vice Presidente a nome del Presidente Francesco Rocha. e cercherò di essere breve e di andare al punto, facendo un richiamo esplicito al senso principale di queste leggi, e cioè, faccio il richiamo proprio diretto, il Presidente del Consiglio è eletto a suffraggio universale e diretto per la durata di cinque anni. Ecco, questo evidentemente è il senso di queste leggi e io ci aggiungo, dal nostro punto di vista, i due punti di forza, che sono in parte anche scontati, però vale la pena ribadirli. e cioè, il tema della rappresentatività e pertanto del rispetto della volontà popolare e il tema non secondario della stabilità degli esecutivi. Allora, sul tema della rappresentatività, è evidente che si va a riaffermare, a rafforzare il significato e la sostanza dell'articolo 1 della Costituzione, nel senso che c'è un'attuazione ancora più forte della sovranità popolare che appartiene al popolo. Quindi, il richiamo all'articolo 1 è un richiamo, se vogliamo, rafforzato, che va a sottolineare che è il popolo sovrano che deve indicare, che deve scegliere, insomma, comunque che deve indicare il Presidente del Consiglio. Perché, dal nostro punto di vista, questo obiettivo è diventato così importante ed urgente? Faccio un esempio e mi riferisco ad un decennio, anzi più che a un decennio, che va dal 2011 al 2022. In questi 11 anni, in Italia, ci sono stati sei Presidenti del Consiglio e sette governi, di cui due Presidenti del Consiglio tecnici e un Presidente del Consiglio che è stato a capo di due differenti esecutivi con maggioranze fondamentalmente diverse. Quindi, come sappiamo, uno dei temi, anche da un punto di vista politico, che ha appassionato il dibattito, anche popolare, è stato quello di partiti che avevano detto mai una maggioranza, una coalizione con un altro partito, mai, per nessun motivo, siamo proprio su fronti opposti della barricata e poi questi partiti si sono ritrovati insieme. Ora, è evidente che da un punto di vista strettamente politico, di palazzo, tutto questo è possibile e anche da un punto di vista giuridico, legislativo, è assolutamente legittimo. Ma, da un punto di vista della volontà popolare, spesso questi giri di walser, questo trasformismo esasperato, è stato percepito proprio non tanto come un'incoerenza, ma proprio come un tradimento, cioè i giochi di palazzo che sono più importanti della volontà popolare. Tra l'altro, vale la pena ricordare, in questo decennio, in questi undici anni, non ci sono state elezioni anticipate. I governi, voglio dire, le legislature sono state di cinque anni circa, qualche mese in meno, però neanche un anno in meno. Probabilmente l'ultima è stata anticipata di sei mesi, cinque mesi, però fondamentalmente, mentre le maggioranze, i governi, i cambiamenti sono stati appunto sette, nello stesso arco temporale. Quindi, su questo non vado oltre, perché, come è noto, si è determinata una forte disaffezione dei cittadini rispetto alle istituzioni e, in alcuni casi, proprio un'estraneità, cioè il voto popolare è andato in una direzione, il popolo ha fatto delle scelte, l'elettorato ha fatto delle scelte, i cittadini, i lettori hanno fatto delle scelte, ma in realtà queste scelte sono andate, da un punto di vista politico-istituzionale, in una direzione diversa. Il secondo punto è la stabilità degli esecutivi. Potremmo dare un dato, che è noto, che dal 1948 ad oggi ci sono stati 68 governi, ma parlo soprattutto degli ultimi anni, la stabilità non è un'opzione, è diventata una necessità. Non voglio dire un obbligo, perché sarebbe sbagliato utilizzare questa parola, ma una necessità. Da un punto di vista internazionale, sia in termini di affidabilità, di reputazione, nella politica estera, ma anche nella politica economica, sia a livello europeo che internazionale, la stabilità è un elemento fondamentale, un elemento di garanzia, un elemento reputazionale, un elemento di concretezza. All'interno dell'Unione Europea lo sottolineo, a livello internazionale potrei dire a maggior ragione, perché tra l'altro l'Italia è uno dei sette paesi più industrializzati del mondo, pertanto è parte integrante di organismi, come per esempio il G7, e non è una nazione secondaria. Quindi la continuità, la affidabilità, la stabilità è un elemento importante. Aggiungo anche che questa stabilità è importante anche da un punto di vista amministrativo, sia a livello di governo, quindi tutte le azioni, tutte le procedure, tutte le politiche, tutte le misure, figuriamoci in questo momento in cui abbiamo per esempio il PNRR, siamo legati a tante strategie a livello europeo, nonché mondiale, ma anche rispetto alle dinamiche amministrative regionali. Per una regione la continuità relazionale, istituzionale è strategica, viceversa si determinano delle interruzioni, ne potrei citare varie, di cui, come dire, insomma, varie, gravi e serie, che apparentemente sono banali. Non è successo nulla, c'è stato un cambio, c'è stata un'interruzione, c'è stato un normale passaggio di consegne, ma sono, come dire, elementi che hanno una ripercussione fortissima sulla possibilità, come dire, di portare avanti delle misure. Penso per esempio ai fondi europei, una mancata sinergia, un mancato allineamento regioni e governo possono determinare, come è accaduto poi negli anni tradizionalmente, per esempio il non utilizzo dei fondi europei o un utilizzo insoddisfacente anche in termini progettuali. Quindi, appunto, la stabilità è un elemento che rafforza l'azione amministrativa a tutti i livelli. Quindi questi erano i due punti che volevo sottolineare a nome anche del Presidente Rocca. Grazie. La ringrazio davvero, Vicepresidente Angelilli. Tra l'altro è stata perfettamente nei tempi, anzi, ci ha lasciato anche qualche minuto. La ringraziamo tanto. A questo punto passiamo alla seconda audizione. Do pertanto la parola a Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, che ci parla in videoconferenza. Prego, Presidente, a lei la parola. Grazie, Presidente Bagano. Aggiungo poco altro rispetto alle considerazioni che ha fatto l'Onorevole Angelilli, che condivido pienamente tutta la riflessione generale sulla necessità, l'opportunità e la bontà di governi stabili, di un rapporto più diretto con il popolo elettore, una politica più trasparente da questo punto di vista, meno esposta a quelli che poi vengono volgarmente definiti i giochi di palazzo, che sono uno degli elementi che allontana i cittadini dalle istituzioni e la comprensibilità del cittadino comune alle logiche politico-istituzionali. Quindi elezione diretta, il popolo sceglie, i partiti si organizzano prima delle elezioni, danno un'indicazione chiara su che cosa vogliono fare durante il mandato, con chi lo vogliono fare e quello si rispetta. Quando questa fiducia viene meno e quando si rompe un vincolo di solidarietà tra i partiti di una maggioranza, si restituisce la parola al popolo. Aggiungo che questo meccanismo, ormai da qualche decennio largamente sperimentato nei territori, qui porto appunto come presidente di una giunta regionale, evidentemente la nostra diretta esperienza, prima con i sindaci, i presidenti delle province, finché si è votato per le elezioni dirette, poi con i presidenti delle regioni, praticamente tutte, tranne credo qualche eccezione nelle regioni a statuto speciale, hanno dato buoni risultati. Sui territori i governi sono stabili, non c'è stata nessuna compressione dei diritti delle minoranze, né alcuna svolta autoritaria che ha in qualche maniera minato il clima democratico e di civile confronto tra le parti, la responsabilità del governo cittadino, regionale ben individuata in capo alla vertice apicale che ha un rapporto di elezione diretta da parte della popolazione, io credo che questo modello virtuoso, largamente sperimentato in oltre 30 anni, anche dai primi anni 90 che si è fatta la riforma per le elezioni dirette dei sindaci e subito a seguire dal 95, quindi quasi 30 anni fa si è cominciato ad eleggere direttamente i presidenti delle giunte, possa essere assunto come un modello e un buon risultato. Colgo l'occasione per proporre alla Commissione Affari Costituzionali anche una riflessione sul fatto che i periodi di incertezza sono quelli che spesso anche producono quella resistenza a cedere al risponso delle urne, a guidare la parola ai cittadini, spesso al di là dell'atteggiamento di autotutela, di una classe politica che prima di decidere lo scioglimento della propria assemblea naturalmente fa i conti anche con i propri diretti e personali di interessi ed ambizioni. C'è anche un tema più generale, il nostro è un paese dove tra la fine di una legislatura, anche quando avviene in maniera naturale, naturale scadenza e l'inizio della successiva passano 5 o 6 mesi almeno in cui si governa con poteri ordinari, senza governi ormai scaduti perché ci vogliono almeno due mesi prima di indire le elezioni, un altro mese abbondante perché un tribunale ratifichi un risultato che in tempi moderni e con le attuali tecnologie potrebbe essere tranquillamente ratificato in 48 ore, noi vediamo paesi europei che indicano le elezioni il 10 giugno, il primo luglio stanno già votando e a metà luglio hanno già tutti il Parlamento proclamato e riunito, la Gran Bretagna in un mese scioglie il Parlamento, fa le liste, celebra le elezioni e il giorno dopo chi ha vinto le elezioni sta dal re o dalla regina a ricevere l'investitura. Modernizzare il sistema istituzionale nel vertice di governo nazionale io credo che sia assolutamente necessario per mettere l'Italia al passo con la velocità che i tempi moderni richiedono e quindi una riflessione su costruire dei meccanismi più fluidi in questi passaggi, più recentemente ha avuto questo anno le elezioni in regione, abbiamo votato i primi di marzo, il Consiglio si è andato sciogliendo a gennaio, da gennaio fino a metà aprile non è stata proclamata dal Tribunale la composizione del Consiglio, poi ci vogliono altri 15 giorni per riunirlo e poi i passaggi per eleggere i vertici assembleari, quindi abbiamo passato cinque mesi senza di fatto avere un governo pienamente legittimato, credo che siano tempi troppo lunghi, è una riflessione su come fare in modo che un passaggio elettorale sia meno traumatico perché poi i cittadini, le aziende, le imprese attendono risposte dalla politica e dalle istituzioni e gli eventi che accadono necessitano di immediatezza in questa capacità di risposta, meriti una qualche riflessione, quindi concludo dicendo che c'è da parte del sottoscritto piena condivisione del disegno di legge e dell'iniziativa del governo per istituire il premierato in Italia con l'elezione diretta e un meccanismo che eviti che l'assemblea possa vanificare il risultato elettorale e il risponso e l'indirizzo politico che i cittadini hanno espresso. Grazie. Grazie a lei Presidente Marsilio anche per la chiarezza della sua esposizione, a questo punto passiamo al successivo, do quindi la parola a Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al bilancio della Regione Lombardia. Prego Assessore Alparone, a lei la parola per la Regione Lombardia perché di fatto lei sostituisce il Presidente. Prego. Assolutamente sì e porto anche i saluti del Presidente Fontana che è in missione in Arabia Saudita. Per riportare quanto detto dai colleghi, chi viene come noi da una lunga esperienza di servizio territoriale, il tema del premieriato è un tema legato all'autorevolezza e alla credibilità che diamo a chi viene eletto. Io ho fatto il Sindaco per dieci anni e quindi mi rendo conto di quanto è importante anche in termini di partecipazione questo tipo di riforma. Noi vediamo sempre di più uno scollamento fra elettori ed eletti e io penso che questo tipo di riforma vada proprio nella direzione non solo di dare stabilità e di dare credibilità ma anche di riportare a una partecipazione vera, democratica e ampia i cittadini rispetto a una scelta. Noi lo viviamo e l'abbiamo vissuto in una lunga esperienza territoriale perché quando viene eletto sindaco, quando viene eletto presidente della regione o quando venivi eletto presidente della provincia e anche questo ci dà un'idea del risultato che abbiamo ottenuto nel momento in cui non abbiamo più eletto i presidenti della provincia ma abbiamo demandato a una elezione di secondo livello come si è persa anche la visibilità dell'istituzione stessa e la funzione dell'istituzione stessa. Quindi io penso che questa riforma abbia un valore importante e l'abbia sia a livello nazionale che internazionale, quello è stato detto dai miei colleghi, ma ce l'abbia anche nel riportare vicinanza, vicinanza dei nostri cittadini rispetto alla scelta, che è la scelta del Premier. Questo nel rispetto della Costituzione, nel rispetto dei ruoli di tutti e mi rendo conto che è un passaggio non semplice, per questo si è cercato di trovare la più ampia condivisione politica in questa riforma, magari con posizioni che non erano perfettamente uguali, ma proprio per cercare una sinergia, per dare un valore voglio dire di unitarietà rispetto all'obiettivo che penso che sia quello che io e i miei colleghi stiamo sottolineando. Mi permetto anche di aggiungere un'ulteriore cosa perché poi non voglio ripetere quanto detto da tutti gli altri miei colleghi, questo va di pari passo anche col tema dell'autonomia. Lo dico perché ritengo che il tema dei poteri, quindi di un Premier forte, di un Premier riconosciuto, di un Premier eletto dal popolo, deve portare anche su un tema di sussediarietà verticale sui territori, la possibilità ai governatori, ai sindaci, a chi amministra i territori, a chi è vicino ai cittadini, la possibilità di poter esercitare al meglio nel rispetto della perequazione, nel rispetto della solidarietà nazionale, ma di poter esercitare al meglio le proprie funzioni proprio perché ne conosce i bisogni. Penso che queste due riforme siano due riforme importanti, coraggiose, perché indubbiamente sono riforme che guardano a un nuovo modo di guardare anche al popolo con una funzione primaria, che è la funzione di mettere nelle mani direttamente, partendo dei livelli più bassi e livelli più alti, il proprio mandato a governare per un tempo stabilito e poi ritornare dai propri cittadini per chiedergli quel consenso. E quindi è ovvio che per chi viene come noi da questa esperienza non può che essere un passaggio importante, un passaggio che dobbiamo in qualche maniera supportare, che dobbiamo condividere e lo dobbiamo fare in un dialogo che è quello nel posto preposto, che è il Parlamento, sia la Camera del Senato, che veda una condivisione nei passaggi e anche nei modi per raggiungere quello che io ritengo sia però un obiettivo di tutti. Bene, la ringrazio Assessore Alparone, è stato anche lei molto sintetico ed incisivo, quindi ringrazio tanto. A questo punto passiamo al successivo, do quindi la parola a Massimiliano Federiga, che oltre che essere Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, svolge un ruolo, ricopre un ruolo particolare perché se non vado errato è anche il Presidente della conferenza dei Presidenti di Regione, quindi un po' in quota, diciamo che ha un ruolo di rappresentanza molto significativo. Giusto Presidente Federiga, le do la parola, prego, a 10 minuti della sua disposizione. Grazie Presidente, le ruberò anche meno tempo di quello previsto. Ai commissari ringrazio l'opportunità di questa interlocuzione con le Regioni e i miei colleghi Presidenti di Regione, in questa occasione perché ovviamente riforme di carattere costituzionale di tale portata incidono nei rapporti istituzionali tra tutte le istituzioni dello Stato. Presidente, io credo che questa riforma costituzionale, come è stato ricordato anche dal Vice Presidente Altarone, si integri perfettamente con la riforma costituzionale già entrata nella carta, oltretutto approvata da una maggioranza diversa da quella attuale, ovvero quella dell'autonomia differenziata. Penso che ci siano due pilastri dell'assetto istituzionale che vivono e convivono come in molti altri Stati democratici occidentali. La riforma con il Premierato, in questo caso, sicuramente dà stabilità, è stato ribadito più volte, e questa stabilità ritengo, ed è ovviamente una mia riflessione personale, però che rafforzi anche il sistema Paese di fronte a un'interlocuzione che tante volte, ormai anzi la maggior parte delle volte, avviene sui tavoli europei, per portare l'interesse nazionale su quei tavoli e ovviamente difendere le prerogative del nostro Paese. La discontinuità di governo che abbiamo visto negli ultimi anni, con anche, devo dire, rappresentanti, non spetta a me averne un giudizio sia ben chiaro, però di assoluto spessore del governo nazionale, la mancata continuità dell'azione di governo ha impedito che anche professionalità e personalità di altissimo valore potessero esplicitare al massimo la propria funzione e quindi portare un vantaggio al sistema Paese. Quindi il primo valore aggiunto del premierato, l'informa del premierato è sicuramente rappresentato dalla continuità di governo dovuto a un mandato diretto ottenuto dai cittadini durante le elezioni. Questa continuità si esplica anche nel rapporto con le regioni stesse, perché le regioni da una parte hanno necessità di una continuità interlocutoria con le istituzioni che tante volte invece si è vista interrotta e dover ricominciare. Faccio un esempio banale, ma in qualità di Presidente di Regione Friuli Venezia Giulia. Molte volte abbiamo avviato, anche in modo assolutamente positivo con diversi governi, norme di attuazione del nostro statuto che prevedono, o avrebbero dovuto prevedere, un'applicazione con nuove competenze esercitate da Regione Friuli Venezia Giulia all'interno ovviamente di una condivisione con i governi nazionali. Tante volte il cambio di ministri e i cambi dei governi hanno bloccato e di fatto fatto ripartire da zero. In alcuni casi oggi, ma in grado la volontà esplicitata dai dimassi governi, non hanno ancora trovato una realizzazione attraverso l'approvazione della norma di attuazione. Per chi non lo sapesse, le regioni speciali hanno anche la possibilità attraverso le commissioni paritetiche di approvare nuove attuazioni, che a loro volta devono essere approvate dal Consiglio dei Ministri e vedono attuate queste competenze. È un esempio fra tanti, ma pensiamo anche per tutte le altre regioni, la discontinuità di governo, cosa provoca all'interno anche delle negoziazioni. Dall'altro, anche la forza che le regioni, la stessa conferenza delle regioni, ha rappresentato, credo, in questi anni, in modo evidente, è dovuta forse anche a un equilibrio di poteri rispetto a dei governi che invece non riescono ad avere continuità. E questo lo dico, scusatemi la provocazione e rimane una provocazione, non degli interessi delle regioni, quindi io non credo che qui dobbiamo fare una lotta di posizione su chi deve esercitare maggiori poteri, ma su come possiamo governare al meglio per dare risposta alle esigenze dei cittadini. Non a caso il sistema elettorale delle regioni ricorda molto la riforma di cui oggi si sta discutendo, con un'elezione diretta del Presidente legata a una maggioranza e questo è una prova empirica da continuità di governo, stabilità e soprattutto programmazione. Un altro problema dell'instabilità di governo è la mancata programmazione di medio periodo che purtroppo continua a caratterizzare il nostro Paese. Noi siamo stati come sistema Paese, e mi scuso di questa riflessione, però penso per l'entra esplicita, estremamente capaci, penso al post pandemia, di una reazione economica, sociale, imprenditoriale, istituzionale stessa, che ha saputo mettere il nostro Paese in termini di crescita all'avanguardia e tra i primi Paesi a livello europeo. Abbiamo però una carenza rispetto a parte europei di capacità di programmazione di medio e lungo periodo. Non siamo in grado di avere una linea di continuità che possa garantire a questa programmazione un vantaggio per il Paese stesso. Questo lo si può avere dopo uno può trovare ovviamente tutte le formule possibili, può avere tutti i migliori auspici possibili, ma solo attraverso una continuità di governo. Invito veramente, e invito prima di tutto me stesso, e ovviamente tutti coloro con cui sto parlando, di riflettere e fare una riflessione su tale proposta non in relazione a una situazione contingente politica, né maggioranza né opposizione. Perché fortunatamente, Paesi democratici che quali siamo, c'è l'alternanza democratica al governo del Paese. Ma dobbiamo riflettere, troppe volte abbiamo fatto questo errore come Paese, penso sulle leggi elettorali, per riflettere sulla situazione contingente, ma invece in maniera astratta per capire qual è l'interesse che dobbiamo difendere, ovvero un interesse collettivo che dopo si potrà esplicare nelle diverse alternanze elettorali in modo diverso, garantendo governi di colore politico diverso, lo rivalisco fortunatamente. Quindi non posso che esprimere un giudizio favorevole sulla proposta di modifica costituzionale, portando in dote un'esperienza concreta, che è quella delle elezioni diretta dei Presidenti di Regione e della continuità di governo, che siamo riusciti a garantire non perché siamo persone particolarmente straordinarie, con uno senso istituzionale particolarmente spiccato, ma perché il sistema ci permette di dare questa continuità e quindi è garantito ai nostri territori una migliore disposta e una migliore programmazione di medio e lungo periodo. Grazie Presidente. Grazie a lei Presidente Federiga. Passiamo all'ultimo dei nostri ospiti di oggi, poi eventualmente se ci saranno domande lo verificheremo, ed è Maurizio Fugatti, Presidente della provincia autonoma di Trento. Prego Presidente Fugatti, anche lei ha dieci minuti a sua disposizione. Presidente Fugatti dovrebbe accendere il suo microfono. Non la sentiamo. Prego. Ancora non l'ha acceso. No, non si sente. Ancora non è acceso il microfono. No, non risulta. Non riesce ad accendere il microfono, Presidente? I suoi collaboratori? Mi dicono qui i tecnici, mi dicono... Adesso la sentiamo. Prego. Prego, prego Presidente. Grazie Presidente, un saluto ai membri della Commissione e agli altri Presidenti che sono presenti. Questo modello di riforma costituzionale ha, diciamo, la finalità di rafforzare la stabilità del Governo e contestualmente riconoscere al corpo elettorale la possibilità di esprimere direttamente e di modo vincolante il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io parlo da Presidente di provincia autonoma e faccio, diciamo, io sono al secondo mandato, sono quasi sei anni di amministrazione della nostra autonomia e al momento ho avuto a che fare con quattro governi nazionali. Il Conte 1, l'inizio, il Conte 2, il governo Draghi e ora il governo Meloni, con una elezione sostanzialmente che si è svolta dopo la mia prima elezione. E questo voi potete capire quanto metta anche in difficoltà il percorso delle nostre scelte come autonomia speciale, in questo caso come provincia autonoma, rispetto ad alcuni percorsi che ci sono con i governi nazionali. E quindi, oltre a quello che hanno detto i miei colleghi che hanno proceduto, cioè il fatto che un governo nazionale che ha stabilità riesce a dare, diciamo, maggiore completezza all'esercizio del suo mandato, dall'altra questo riguarda anche i rapporti con noi, perché voi potete capire che se devo cambiare quattro ministri per una, diciamo, una questione che si sta trattando con qualsiasi ministero, voi capite che questo limita anche poi le possibilità di azione, ne rallenta le possibilità di azione da parte dei territori. Quindi c'è una doppia lettura, la lettura della stabilità del governo nazionale, che è già ben stata spiegata, e anche la lettura dei rapporti con, in questo caso con la regione e provincia autonome, che se cambia un governo come è stato in questi ultimi sei anni, che è cambiato quattro volte, noi dobbiamo sempre riprendere a capo tutti i percorsi che abbiamo messo in moto. E questo, alla fine, limita l'efficienza della pubblica amministrazione, perché stiamo parlando di questo e quindi le risposte che dobbiamo dare ai cittadini. Questa ipotesi di forma costruzionale oltretutto è collegata anche alla legge elettorale per quanto riguarda il compito e la definizione del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, riconoscendo un premio di maggioranza che garantisce la stabilità di governo. Questo, come sentiamo anche dal dibattito in corso, va un po' a prendere come esempio i modelli di elezione che ci sono all'interno di tutte le regioni a stato tutto ordinario e della gran parte delle autonomie speciali. C'è l'elezione diretta del Presidente della Regione e la Provincia Autonoma. E questo diciamo è un esempio di stabilità da una parte, perché è difficile che ci sono tanti esempi di governi che vengono a cadere, se non per le questioni che magari abbiamo visto nelle ultime situazioni, però la stabilità è garantita. E dall'altra è garantita anche l'azione di governo e la volontà di portare a termine il mandato elettorale che è stato dato alle cittadine all'inizio della legislatura. Ecco che quindi questo esempio che arriva dalle regioni, abbiamo già un esempio di quanto possa essere funzionale questo percorso, consapevoli, questo va detto, della diversità del piano regionale rispetto a quello nazionale, ma non abbiamo ragione di pensare che una scelta analoga, come sta avvenendo avanti, possa rappresentare una limitazione della rappresentatività democratica rispetto ai sistemi elettorali anche oggi in vigore. Faccio presente da provincia autonoma che nei contenuti di questo percorso, nel modello che viene proposto direzione del Presidente del Consiglio, si prevede e si riconosce espressamente il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche, che per noi, voi capite, è un tema che rimane sempre importante per quanto riguarda il progettivo dello Statuto di Autonomia del Trentino e dell'Alto Adige e dell'Alto Adige Suttirol, così come rimane la presenza dei delegati delle regioni e delle province autonome quando si parla di direzione del Presidente della Repubblica. Ci pare poi che nel dibattito che c'è stato finora, comunque il testo abbia subito delle, lo dico, legittime ed oggettive modifiche nel corso del dibattito che c'è stato e quindi il dibattito ha sicuramente portato a migliorare rispetto a magari a qualche criticità che nel percorso è stata evidenziata. Grazie Presidente Fugatti, a questo punto abbiamo l'ultimo dei cinque nostri ospiti di oggi. Chiedo ai deputati collegati o presenti se intendono rivolgere domande. Sì, c'è una domanda, poi dirà lei a quali o a quale Presidente tende a rivolgere l'Onorevole Urzi del Gruppo di Fratelli d'Italia. Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche tutti gli intervenuti in questa importante tornata di audizioni che riguarda peraltro le regioni e le province autonome che è un aspetto che andava messo a fuoco quindi meritevole l'attenzione e il focus che si è voluto creare anche perché il rapporto poi fra le istituzioni sul territorio e lo Stato, la disciplina di questo rapporto è estremamente funzionale a comprendere anche la utilità del modello proposto. Io voglio ringraziare tutti indistintamente. Volevo soffermarmi per una domanda sulle questioni che attengono le dimensioni delle autonomie speciali. Abbiamo avuto peraltro due ospiti autorevoli, il Presidente Fedriga che è il coordinatore delle regioni tutte, però è Presidente di una regione a statuto speciale e il Presidente Fugatti che è un Presidente di una provincia autonoma nell'ambito della regione autonoma del Trentino Alto Adige. E quindi il focus relativo all'utilità della stabilità dei governi nazionali in rapporto anche all'attuazione degli strumenti autonomistici attraverso, ha citato il Presidente Fedriga per esempio, delle norme di attuazione che vengono poi licenziate dal Governo nazionale. Quindi io volevo una precisazione in termini di chiarezza che può essere utile anche a verbale, ossia quale effettiva potenziamento delle opportunità delle autonomie speciali, la stabilità del Governo nazionale, la continuità anche di Governo e dei Ministri di riferimento è strutturalmente utile all'attuazione degli statuti speciali. E quanto questo, questo rivolto al Presidente Fedriga, è di interesse, anche se non stiamo parlando e non parliamo di norme di attuazione, delle regioni a statuto ordinario nella loro proiezione peraltro di autonomia differenziata che si andrà a creare e che però comunque non doteranno le regioni a statuto ordinario degli stessi strumenti delle regioni a statuto speciale per quanto riguarda per esempio le norme di attuazione. Grazie. Bene, grazie Onorevole Uzi. A questo punto è evidente che alla domanda dell'Onorevole Uzi dovranno rispondere i due Presidenti delle regioni a statuto speciale, cioè innanzitutto il Presidente Fedriga e poi brevemente il Presidente Fugati. Prego Presidente Fedriga, lei la parola per rispondere alla domanda dell'Onorevole Uzi. Grazie, ringrazio anche Onorevole Uzi ovviamente. Come dicevo, la continuità di Governo rappresenta nei rapporti bilaterali tra autonomia speciale e Governo stesso un valore aggiunto importante proprio per portare anche processi di autonomia rafforzata per le specialità. Io come ho avuto modo di ribadire più volte anche nel dibattito, anche in audizione sia Camera che Senato per quanto riguarda l'autonomia differenziata, ho voluto sottolineare come i processi di autonomia non sono unilaterali, ma sono ovviamente dei processi che devono trovare il consenso della parte del territorio, ovvero le regioni o la provincia autonoma o la provincia, o meglio solo le regioni per quanto riguarda l'autonomia differenziata e il Governo stesso. Quindi se uno dei due pilastri di questo processo non garantisce continuità a cadere e riparte, è chiaro che il ponte non rimane in piedi, quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda le regioni è stato tutto ordinario, parlo ovviamente, e questo si è chiaro come un'opinione che rappresenta la mia regione e ovviamente la mia sensibilità, non tutte le regioni, perché ricordavo giustamente Leonardo Z, io sono coordinatore, non posso ovviamente esprimere perché sapete su alcuni passaggi anche di queste riforme c'è una posizione differenziata per alcune regioni, seppur minoritarie. Per la regione è stato ordinario, la continuità del Governo anche nell'ordinarietà rappresenta un elemento fondamentale per le regioni stesse. Faccio un esempio, la continuità di Governo può rappresentare per esempio la possibilità di una programmazione pluriannale, per esempio dei fondi destinati alla sanità, che permette di fare programmazione. Oggi abbiamo difficoltà perché noi ogni anno dobbiamo ipotizzare e dopo vedere se vengono confermati il Fondo Sanitario Nazionale. La continuità di Governo permette di fare quella programmazione di cui parlavo nel mio primo intervento. È un esempio tra tanti, è forse quello più eclatante perché stiamo parlando della principale fonte di spesa per quanto riguarda le regioni, ma questo ovviamente è retricabile per qualsiasi altro tipo di intervento. Per questo, per quanto ci riguarda la continuità, è un principio da difendere, valorizzare e magari ovviamente cercare di garantire in prospettiva. Grazie Presidente Federica, adesso do la parola per concludere l'audizione di oggi a Presidente Fugatti, sempre per rispondere alla domanda dell'On. Prego Presidente Fugatti, solito problema del microfono, chiedo scusa Presidente, ditemi quando è collegato, è collegato? Prego, no, non ancora, non ancora. Grazie per la domanda, farò anche un esempio molto pratico di quanto è importante per noi proprio nel meccanismo dell'approvazione delle norme di attuazione all'interno delle cosiddette commissioni paritetiche. Nel momento in cui noi come giunta provinciale e regionale decidiamo di provare ad approvare una norma di attuazione che deve essere fatta in accordo con il Governo, perché deve essere poi approvata dal Governo, nel momento in cui va nella commissione nostra paritetica e viene approvata, poi servono i pareri dei vari ministeri interessati. A volte ci si può mettere una settimana, a volte qualche mese, ordinariamente. Ma se nel frattempo cambia il Governo, quel percorso che noi abbiamo iniziato di una settimana o mesi, e molto spesso si tratta di mesi, deve ricominciare da capo, perché se nel frattempo il Governo è cambiato dobbiamo andare a riavere i pareri dei ministeri su quella nuova attuazione e quindi a volte si perde anche periodi lunghi, si può perdere anche almeno un anno. E quindi questo è un esempio pratico di come nei rapporti tra autonomia speciale e il Governo nazionale la stabilità del Governo nazionale alla fine rende più efficiente anche il nostro legiferare da una parte prima e poi poter governare sulla base delle leggi approvate. Grazie. Bene, a questo punto ringrazio anche il Presidente Fugatti, ringrazio ovviamente nell'ordine tutti i Presidenti che hanno preso parte a questa audizione, cioè la Vicepresidente Roberta Angelilli della Regione Lazio, ringrazio qui in presenza, l'aspettiamo prossimamente per altri provvedimenti, Vicepresidente Angelilli, il Presidente Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, il Vicepresidente Assessore al bilancio della Regione Lombardia Marco Alparone, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federiga e infine Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e per i loro preziosi contributi, ovviamente sottolineo che se volete ed è gradito potrete depositarci o inviarci un documento scritto che così potrà essere inserito sul sito della Regione e della, chiedo scusa, si parlava di Regioni, ho detto alla Regione, mi sono fatto tre legislature regionali, quindi ci sta che dica ogni tanto Regione e volevo salutare con affetto e cordialità il Ministro Elisabetta Casellati che è stata presente e che ha ascoltato tutta l'audizione da remoto avendo una piccola indisposizione fisica. Pertanto chiudo qui, dichiaro conclusa l'audizione di oggi e saluto cordialmente dando a tutti un buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, arrivederci.